Un incidente banale che non farebbe notizia se non fosse che il protagonista della vicenda è l'attore comico Massimo Boldi. A bordo della sua Mercedes Boldine, dal piazzale antistante al giardino esotico Pallanca a Bordighera, si stava immettendo sull'oreglia mentre sopravvi giungeva un giovane in sella al suo scooter. Auto e scooter si sono toccati, il ragazzo è finito a terra ma ha riportato solo lievi ferite e così l'attore è stato accompagnato nella caserma di via Primo Maggio da una pattuglia dei carabinieri di Bordighera per gli accertamenti di rito. Visto che non è successo nulla di grave, alla fine c'è scappata anche qualche risata e con Boldi non poteva che essere così.